allora buonasera a tutti a tutti noi questa sera siamo ospiti di questo posto meraviglioso che si chiama circolo dei lettori e chi non è di torino guarda sempre con fascinazione poi finalmente ci arriva siamo con alessandro rocca che tante cose tra cui autore di questo libro che siamo orgogliosi io sono un piccolo editore anche quasi fallimentare quindi non ascoltatemi tanto non fate gli editori mai le case editrici sono destinate a essere inglobate da grandi gruppi editoriali ma rescue è un libro molto bello che abbiamo fatto perché ci crediamo tantissimo perché pensiamo che questa sia una delle questioni di civiltà più importanti del momento al netto anche delle motività sacrosanta degli ultimi giorni sia una questione capitale per l'epoca in cui viviamo alessandro insieme ad altre persone ha pensato bene di prendere una va una nave intera che è un po la quella rovesciamento non bisogna no costruire semplicemente una nave bisogna anche dire qual è l'obiettivo l'obiettivo è gigantesco è quello di salvare le vite umane pare che sia un problema politico salvare vite umane pare che non sia opportuno nemmeno imbarcarsi la presidente del consiglio giorgia meloni ha spiegato che alle stesse famiglie delle persone che cercano di attraversare il mare ha chiesto loro ma siete sicuri se sia il caso di farlo avete messo in conto i rischi io non so cioè ormai la realtà supera veramente la fantasia distopica no quasi anche una violenza verbale inaccettabile dopodiché appunto ci sono delle persone io partirai proprio da da questo elemento che poi al centro del tuo libro perché un gruppo di amici più o meno noti più o meno in relazione con un mondo poi ci dirai quale mondo durante la pandemia mentre tutti eravamo chiusi in casa e le cose erano ancora più difficili da affrontare e questo gruppo di persone decide prendiamo una nave è una cosa abbastanza sorprendente cioè è la rottura dello schema più più grande che si possa fare beh sì intanto grazie a tutti a tutti di essere qui questa sera siete tantissimi tantissime persone che conosco quindi sarà complicatissimo parlare raccontare questa cosa perché magari chi mi conosce da quando siamo bambini ha delle grandissime aspettative noi abbiamo abbiamo deciso di comprare una nave di fare una nave di metterla nel mediterraneo di salvare delle persone perché dal 2018 quando abbiamo incominciato a parlare di questa idea abbiamo pensato che avevamo in testa che non potevamo girarci più dall'altra parte cioè noi siamo nati dalla parte giusta del mondo abbiamo in tasca un passaporto che ci consente di andare dappertutto abbiamo tantissime possibilità e secondo me e secondo noi è giusto tendere la mano a chi è in difficoltà a chi vuole cambiare la propria vita per qualsiasi tipo di motivo quindi ci siamo guardati intorno ci siamo guardati in faccia sono successe tante cose che racconto nel libro con un gruppo di persone principalmente milanesi diciamo sono un gruppo di legali qualche giornalista ci sono anche dei milanesi buoni incredibile ci sono anche dei milanesi buoni è la prima notizia della serata esatto la prima notizia della serata qui a torino di rescue siamo un piccolo contingente siamo in due siamo io ed emiliano emiliano giovine che anche lui è un avvocato e ci siamo detti facciamo questa nave facciamo questa cosa all'inizio un piccolo gruppo di persone si è trovato proprio in intorno a un tavolo come se fossimo noi questa sera qui e c'è stato qualcuno di queste persone che ha detto che cosa facciamo e un'altra persona ha risposto compriamo una nave e gli altri hanno detto compriamola va bene quindi abbiamo costituito la nostra associazione a dicembre del 2019 a dicembre del 2019 con un certo tempismo notate la follia non era sufficiente avete scelto anche esatto e la follia giustamente citi bene la follia perché io amo chiamare questa questa impresa che abbiamo messo su il sogno di un gruppo di folli perché ovviamente nessuno di noi era esperto di di mare di come si di dove si compra una nave di come si fa a fare l'armatore di che cosa bisogna fare una volta che ce l'hai come funziona quali sono tutta una serie di di aspetti che poi abbiamo scoperto man mano e che ci hanno in parte anche travolto perché comunque quando non sai bene che cosa fare anche se ci siamo comunque documentati e ci siamo messi in mano persone che avevano sempre fatto questo di di mestiere comunque il 19 dicembre 2019 si firma questa questo atto davanti al notaio si costituisce rescue prima riunione l'otto gennaio 2020 a milano ci vediamo in faccia io lì scopro che c'è un altro torinese sono felicissimo ovviamente di questo e decidiamo che dobbiamo uscire dobbiamo raccontare la nostra storia dobbiamo fare questo tour in italia un tour un incontro per ogni regione 20 20 incontri eccetera il nostro presidente onorario gerardo colombo dice benissimo che perfetto partiamo andiamo tutti e viva e poi mentre stavamo preparando questa cosa siamo andati in lockdown siamo andati in lockdown noi avevamo la necessità di farci conoscere avevamo la necessità di raccogliere del denaro per comprare questa nave avevamo la necessità di fare del crowdfunding avevamo necessità di appunto di di fare tutta una serie di cose di strutturarci di di diventare un equipaggio vero e quando è successo lockdown ci siamo guardati in faccia abbiamo detto che facciamo la follia ormai era compiuta abbiamo detto andiamo avanti siamo andati avanti ci siamo inventati un sacco di cose online perché in quel periodo era possibile solo fare questo e quando ci siamo presentati alla stampa nel momento in cui l'estate 2020 era possibile uscire no allo scoperto appunto il nostro presidente onorario gerardo colombo ha detto è nata rescue è nata la nave della società civile perché noi alle spalle non abbiamo nessuna grandissima organizzazione nessun finanziatore occulto non abbiamo niente noi siamo nemmeno soros nemmeno soros nessuno nemmeno gli arabi nessuno dimenticati da tutti siamo dimenticati da tutti ma siamo la nave come come ci piace dire di tutti voi e di tutti noi cioè di ciascuno che ha messo poi quei 5 euro quei 10 euro quei 50 euro poi qualcuno ha messo anche 50 mila 100 mila però sono sempre donazioni di privati di persone che hanno deciso di di darci dei soldi quando siamo usciti sulla stampa fine luglio del 2020 è successa una cosa straordinaria che noi non ci saremmo mai aspettati nella prima settimana primi dieci giorni abbiamo ricevuto più di mille mail di persone che ci chiedevano cosa possiamo fare come possiamo aiutarvi che cosa possiamo in questo momento fare per per voi e questo ovviamente ci ha dato un'ulteriore spinta durante l'inverno c'è stato di nuovo il il lockdown ma noi abbiamo fatto un evento online di nove una maratona di nove ore il 13 di dicembre 2020 in quella giornata e nelle due settimane successive abbiamo raccolto oltre 200 mila euro che sono niente per una diciamo per uno ng come la nostra per per quello che facciamo noi la nostra ng costa due milioni all'anno per fare delle missioni di salvataggio ma come io dico sempre e come pensiamo tutti noi di rescue se io spendo un milione di euro anche solo per salvare la vita di una sola persona e il milione di euro meglio speso non posso spendere meglio quel milione di euro perché quella persona lì vale più di qualsiasi altra cosa infatti la vita umana non ha prezzo quindi tutte le vite delle persone sono sono senza prezzo quindi noi dobbiamo assolutamente andare ad aiutare queste persone poi nella primavera per farla breve poi chi leggerà il libro lo scoprirà compriamo la nave e iniziamo a fare delle missioni di salvataggio e niente questo è un po la genesi del di rescue senti voi avete un progetto che non dovrebbe esistere questo nella vostra stessa definizione perché cioè io lo capisco ovviamente per l'ho letto lì chi non legge il libro spiace è gravissimo non prenderà un sacco non coglierà un sacco di sfumature però in realtà questa è la più importante beh assolutamente sì questo noi lo ripetiamo tutti i giorni noi non dovremmo né esistere non dovremmo esserci non dovremmo essere nel mediterraneo perché nel mediterraneo ci dovrebbe essere intanto prima ancora non dovremmo permettere consentire alle persone che vogliono emigrare di farlo nel modo in cui lo fanno adesso cioè attraverso i trafficanti di uomini e non confondiamo scafisti e trafficanti di uomini gli scafisti non esistono gli scafisti sono dei poveretti a cui viene messo in mano il motore di una nave di una barca di una barchetta non gli si fa pagare la traversata e gli si dice portali a lampedusa portali dove riesci quindi gli scafisti di fatto non esistono i trafficanti di esseri umani sono altri sono delle mafie potentissime che collaborano con la guardia costiera libica che noi finanziamo finanziamo fino a ora se non sbaglio abbiamo dato più di 100 milioni di euro alla guardia costiera libica abbiamo fornito moto vedette che costano 20 milioni di euro luna pensate noi noi costiamo 2 milioni di euro all'anno più o meno per fare 8 10 missioni quindi vedete che quei 100 milioni di euro se lo stato decidesse di fare un qualche l'europa non lo stato l'europa decidesse di fare delle attività di sar di search and rescue comunque di soccorso nel mediterraneo finanziando in modo organico delle associazioni come la nostra spenderebbe molto meno di quei 100 milioni di euro che ha dato la guardia costiera libica cioè è semplice è un'equazione semplicissima la capisce anche un bambino di terza elementare quindi noi non dovremmo esistere perché dovrebbe esistere appunto la possibilità per le persone di chiedere un visto ad esempio e di venire in europa di andare negli stati uniti di andare dove vuole perché chiunque vuole chi vuole cambiare la propria vita indipendentemente dal fatto che venga da una zona di guerra di carestie di cambiamenti climatici se vengono da quelle zone a maggior ragione hanno diritto di asilo eccetera questo è chiaro ma se io voglio migliorare la mia situazione la situazione dei miei figli della mia famiglia di delle persone che mi stanno a cuore perché non posso farlo perché se sono un pakistano il mio passaporto vale per 29 paesi e se sono un italiano o un canadese vale per più di 180 paesi perché posso chiedere il visto in 180 paesi mentre se sono un pakistano me lo danno solo 29 paesi per quale motivo qual è la differenza fra ciascuno di voi me lui è un pakistano nessuna la razza umana è una sola cioè siamo tutti uguali quindi qual è la differenza perché certe persone non possono farlo e allora l'unione europea il governo italiano non questo purtroppo perché come si nemmeno i precedenti va adesso si no certo nemmeno i precedenti no certo che questa è brutta forte però però gli accordi con la libia li ha fatti minniti certo assolutamente come ero in parlamento in una vita precedente mi ricordo che quando ci opponevamo agli accordi con la libia ci dicevano che eravamo dei velleitari delle persone che volevamo accoglierli tutti senza sapere che poi in italia si vogliono fermare pochissimi rispetto al totale perché siamo messi così cioè guardiamoci in faccia nessuno vuole fermarsi da noi e però era era la parte di sinistra che era il governo del paese che ci spiegava che bisognava mettersi d'accordo con questi sindaci della libia a me piacerebbe riportare minniti oltre a un girono infernale dove finirà molto in fondo riportarlo a quelle affermazioni sindaci della libia erano i capi tribù più o meno criminali in una guerra civile che erano collegati ai trafficanti di uomini che erano le stesse persone che cambiavano di casacca e la sera poi diventavano i torturatori non sto esagerando è c'è una letteratura sconfinata non solo di people fortunatamente ma di una parte consistente al nostro panorama editoriale che ha raccontato queste cose ed è in generale un andazzo che prosegue da tempo c'era di maio quello intelligente adesso l'abbiamo io non so se avete notizie di di maio perché a me un po' manca c'è la sua raffinatezza la sua sapete quando uno è sofisticato un po' ti colpisce e lui inventò la categoria dei taxi del mare che eravate voi poi cioè voi non c'eravate ancora non siamo ancora esatto siamo ancora quindi questa la il codice di condotta contro l'NG non fu inventato da giorgio meloni dal perfido salvini ma fu inventato prima e quindi c'è proprio una tendenza per non parlare della vera questione che quella europea cioè la fortezza europa che di fatto è la traduzione di quella sigla che dovrebbe sovrintendere a tutti questi meccanismi a tutte queste dinamiche quindi è un momento secondo me abissale io mi chiedo sempre poi magari arriviamo a parlare anche dei tuoi interlocutori che cosa ci chiederanno le persone che sono state in libia in quei campi che hanno dovuto attraversare il mare che poi adesso magari non lo raccontano perché un po' come chi tornava dai campi diciamo di sterminio ma anche quelli un po' meno drammatici diciamo la seconda guerra mondiale come sapete non aveva nessuna aveva troppo pudore per raccontare quello che era successo no anche perché si trattava di violenze fisiche di cose inumane ma fra qualche anno magari qualcuno ci chiederà noi dove eravamo rocca su una nave nel senso più buono del termine nel senso che ci aveva messo ma quanti di noi potranno dire io non c'entravo io assistevo non dicevo niente ma no con tutti questi ma di cui ha costellato ragionamento quindi secondo me questa è una questione davvero gigantesca al di là della politica proprio a livello di umanità di con di senso della vita di percezione delle cose e in questo cammino tu hai incontrato personalità che tu citi intervisti con cui insomma a che fare nel libro Gerardo Colombo è la prima di cui ti chiederai qualcosa e poi c'è questo c'è questa figura che è molto mia amica quindi ne parlo con un po di piageria o di simpatia che è Cecilia Strada anche perché ci chiedeva ieri la giornalista del Corriere ma questo cognome così ingombrante perché Gino Strada non c'è più però in effetti Gino Strada sarebbe uno secondo me meno simpatico di una volta perché un po' pacifista che è un'altra parola di chi vuole che non si possono più usare insieme a quella questione di cui parliamo ma ne parliamo un'altra volta però c'è anche Cecilia Strada ci sono tante altre persone la tua conversazione parte da Lella Costa ci sono veramente tanti amici in questa storia ce ne vuoi citare non soltanto i nomi ma cosa ti hanno dato e cosa ti hanno detto in questo libro in questa in questo percorso beh allora Gerardo è quello che un po' nelle prime riunioni ci ha dato il là e ha messo come dire il claim del nostro del nostro fare questa questo tipo di questa attività di salvare le persone cioè lui ha detto e lo dice sempre tutte le volte che si rivolge alle persone no quando in situazioni come questa ma se ciascuno di noi chiunque di voi io fossi su una barchetta in mezzo al Mediterraneo non vorrei che qualcuno venisse e mi tendesse la mano e mi portasse in salvo cioè è questo il chi è che potrebbe dire no a questa cosa io credo nemmeno il peggior Salvini nemmeno il peggior Piantedosi nemmeno la nostra Giorgia Meloni nessuno di loro cioè quello che è quello che vorrei chiedere a queste persone che si sono dimostrate senza umanità anche nelle espressioni che hanno utilizzato per la tragedia di Cutro o per le altre insomma cioè non hanno come dire gli manca della sensibilità umana proprio e vorrei proprio metterle vorrei portare una volta sulla barca con me sulla nostra nave sulla nostra rescue people no? la nostra rescue people è una nave di 39 metri è una nave che ha 70 anni di vita e ha un fascino molto molto particolare e vi assicuro che in mezzo al Mediterraneo anche su una barca così grande di notte quando tu senti solo il rumore del mare o del motore eccetera e ti metti lì sul ponte e osservi il buio più assoluto ti prende un cioè hai un qualche cosa che dice e adesso se succede qualcosa cosa faccio quindi io mi immagino 50 persone 60 persone 100 persone su un peschereccio scassato su un barchino di legno che sono partite dalla costa della Libia dalla costa della Tunisia dall'Egitto dalla Turchia ma prima hanno attraversato il deserto prima sono state imprigionate, torturate, stuprate nei lager libici perché diamo un nome alle cose quindi Gerardo ci ricorda questo cioè noi dobbiamo avere la capacità di tendere la mano a queste persone perché se no non c'è come possiamo considerarci umani no? qualcuno diceva restiamo umani no? e allora è proprio questo e Cecilia che è arrivata io Cecilia lo racconto anche nel libro non la conoscevo direttamente ci siamo sentiti qualche anno fa io dovevo fare un viaggio in Sudan ho fatto una telefonata mi son fatto mi son procurato il suo numero perché dovevo andare in Sudan a fare un documentario e lei mi doveva insomma ha cercato di darmi una mano per avere il visto eccetera che poi non mi hanno concesso perché ero indesiderato io e i miei colleghi eravamo indesiderati in Sudan creavamo giornalisti e quindi andavamo a rompere le scatole poi non ci siamo dopo quelle tre telefonate non ci siamo mai più né visti né sentiti e io l'ho riscoperta quando è arrivata a Rescue nell'autunno del 2020 lei dopo l'esperienza di emergency è stata in Mediterranea e poi adesso è la nostra responsabile della comunicazione io lavoro fianco a fianco con lei praticamente ogni giorno da allora ci sentiamo tutti i giorni è diventata un'amica come amica di Pippo ed è una persona straordinaria che ti dà una carica incredibile che ha moltissime idee con la quale si può parlare veramente di tutto e che comunque ha una forza dirompente quando scrive anche solo un tweet o un post su Facebook o su Instagram se la seguite vedrete che oltre agli insulti e tutto quello che può comportare come diceva Pippo il suo cognome che è un cognome importante ingombrante eccetera ma al di là di quello lei è Cecilia Strada non è Gino Strada e sono due persone completamente differenti che hanno fatto ovviamente delle cose insieme perché erano padre e figlia ma lei in questo momento ha come dire un piglio decisamente molto aggressivo anche dal punto di vista di quello che dice delle cose che dice di come le dice soprattutto nei confronti dei nostri governanti o di quello che dovrebbero o non dovrebbero fare quindi per noi è molto importante avere lei e io lo dico così come l'ho detto come lo dico sempre ai vips che ho intervistato e incontrato che sono amici di Rescue cioè a me serve avere Lella Costa che parli di Rescue a me serve avere Dario Vergassola che mi parla di Rescue mi servono queste persone che hanno un nome e hanno soprattutto un cognome e hanno una visibilità come personaggi dopodiché io lo dico sempre subito cioè ho bisogno di te dobbiamo comunicare dobbiamo parlare tu arrivi a tantissime persone immediatamente se lo dico io cioè lo dico a voi qua finisce lì se lo dice Cecilia Strada se magari lo dice Lella Costa a uno spettacolo in teatro come ha fatto durante tutta la sua tournée che alla fine di ogni spettacolo ha invitato a donare per Rescue lei ci ha concesso di avere un banchetto con il nostro merchandising dove c'era anche il libro eccetera di Rescue per tutta la sua tournée quindi come hanno fatto anche altri attori ci sono stati moltissimi attori che hanno aderito a questa cosa che abbiamo fatto nei teatri fra novembre e gennaio quindi abbiamo bisogno di questi personaggi nel libro ce ne sono un po' diciamo di vips chiamiamoli così che ai quali ho chiesto semplicemente ho fatto una domanda che sembra banale ma quanto vale per te una vita umana cioè che cos'è la vita umana e ciascuno mi ha raccontato qualcosa che in alcuni casi è molto personale perché riguarda il proprio vissuto altri invece mi hanno parlato appunto del fatto di dover comunque fare qualcosa di dover intervenire di dover essere attivi perché io spero che questo libro possa essere anche di ispirazione per altre persone per altre realtà che vogliono fare delle cose per chi vuole ripeto noi siamo un gruppo di folli che avevano un sogno e l'hanno realizzato quindi quindi vuol dire che è possibile fare le cose è possibile fare le cose nonostante tutto cioè è possibile anche comprare una nave cioè una nave quando noi abbiamo detto compriamo una nave non sapevamo nemmeno da che parte dove si dove si compra una nave un conto è comprare un gommone un conto è comprare una nave ok senti ma non ci stavo pensando dove si compra una nave ce lo vuoi anche dire come si compra una nave come si compra una nave sai che forse non lo so ancora però no è perché cioè noi siamo poi affidati a qualcuno insomma abbiamo iniziato a guardare ci sono anche dei siti poi specializzati abbiamo scoperto che vendono mercantili navi da ex navi che facevano altre attività prima la nostra ad esempio è una nave che faceva ricerche oceanografiche negli anni 50 60 e l'abbiamo trovata l'abbiamo pagata a 400 mila euro ci hanno un po' fregati e dobbiamo dirlo ma come? è perché eravamo inesperti e quindi quando compri l'usato speri sempre che sia un usato sicuro ma in realtà poi abbiamo scoperto che avevamo un sacco di magagne dopo le prime missioni abbiamo comunque tribolato parecchio infatti gli ultimi mesi li ha passati in cantiere adesso è nuova abbiamo speso un sacco di soldi per metterla a posto e ovviamente abbiamo lanciato di nuovo la campagna di crowdfunding chiedendo ai nostri ormai 10.000 sostenitori più o meno perché il nostro sogno era all'inizio facciamo la nave la società civile troviamo 2 milioni di italiani che ci danno un euro ho detto che figo 2 milioni di persone che ci danno un euro abbiamo 2 milioni di euro poi in realtà i sistemi di crowdfunding di raccolta fondi eccetera non ti consentono di donare un euro perché si tengono la fee di 30 centesimi di 20 centesimi te li danno quando hai raccolto almeno x oppure cioè sono tutta una serie di sistemi che non ti consentono di quindi vabbè abbiamo detto vabbè datecene 5 allora partiamo da 5 e così è comunque abbiamo trovato 10.000 più di 10.000 donatori unici che continuano a essere i nostri donatori e nell'ultima campagna che abbiamo lanciato combinazione poco prima della strage di Cutro abbiamo lanciato una campagna che si chiama non uccidere con una bellissima vignetta di Mauro Biani Mauro Biani che è un altro nostro amico non so se lo conoscete fa delle vignette bellissime e con nostra grande sorpresa sono arrivate 2400 donazioni nei primissimi giorni di cui 1900 di donatori che non conoscevamo che per la prima volta ci hanno donato chi 5 chi 10 chi 20 euro chi 50 chi 100 chi ha deciso di fare una donazione continuativa e quindi questo ci ha sorpreso molto perché comunque vuol dire che nella società civile c'è chi ha voglia di comunque di salvare una vita insieme a noi e questo per noi è la forza più grande è la cosa che ci spinge ad andare avanti ed è diciamo le persone che ci chiedono cosa possiamo fare eccetera una cosa che racconto nel libro è che una nostra peculiarità credo è quella degli equipaggi di terra molte persone in moltissime città si sono organizzate in veri e propri nuclei che sostengono Rescue con le attività più disparate noi gli abbiamo dato tutta una serie di layout anche per crearsi la loro pagina Facebook, il loro profilo Instagram e loro fanno attività di qualunque tipo cioè va dalla cena di beneficenza alla biciclettata alla partecipazione alla fiera alla proiezione del film all'evento di presentazione con i nostri libri con noi eccetera e sono attivissimi saremo presenti anche a fa la cosa giusta a Milano tre giorni con il nostro stand dove tutti i volontari da tutta Italia verranno a gestire lo stand perché sono assolutamente animati da siccome non tutti possiamo andare su una nave non tutti possiamo fare una missione perché per fare una missione bisogna avere delle comunque bisogna essere in grado di fare delle cose sulla nave non si può andare ad esempio una cosa che potrebbero fare tutti che potrebbe fare ciascuno di voi è il cuoco se sapete fare i cuochi potete venire sulla nave perché il cuoco serve è fondamentale anzi però ad esempio l'equipaggio di marittimi cioè il comandante, gli ufficiali, gli ingegneri di macchine eccetera quelli sono ovviamente stipendiati e pagati poi ci sono tutti i volontari ma che devono avere una certa esperienza di mare oltre poi a essere alcuni mediatori culturali, il personale medico, sanitario e appunto il cuoco eccetera quindi queste persone sono organizzate in questi equipaggi di terra proprio perché non possono venire a fare l'equipaggio di mare e quindi sono inventati questa cosa qua, a noi è piaciuta tantissimo, li abbiamo andato là, ce ne sono già una quindicina uno addirittura a Parigi è nato meno di un mese fa con uno spettacolo teatrale, una presentazione alla libreria dei libri italiani di Parigi eccetera insomma Cecilia è andata con il nostro presidente Luciano a Parigi a fare questa presentazione e questo per noi è stato veramente una cosa incredibile insomma Beh anche un applauso anche se siamo a Torino è autorizzato è il posto nel mondo in cui applaudono meno per esperienza è venuta Lady Gaga niente, zitti tutti tutta sera No perché sono tutti miei amici, già mi conoscono quindi hanno senso di una prudenza Senti, Gerardo Colombo fa una riflessione sugli articoli della Costituzione in questo libro e in generale tu hai scoperto, in realtà non hai scoperto, bastava leggere il codice penale, l'articolo 54 ce lo leggi che così capiamo anche di cosa parliamo quando parliamo di salvataggi e di responsabilità penali? No cioè è incredibile questa cosa, io non ero a conoscenza, l'ho sentito credo in una trasmissione televisiva qualcuno ha citato l'articolo 54 del nostro codice penale c'è già tutto lì allora sono andato a vedermelo e dice non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o da altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo quindi di fatto il nostro codice penale dice che se c'è qualcuno in pericolo da salvare noi dobbiamo salvarlo, punto non c'è altro da dire, cioè il codice di condotta che c'è nel decreto piantedosi a parte che non c'è nulla di nuovo e non c'è nulla che le ONG che si occupano di SAR, Search and Rescue nel Mediterraneo già non facessero prima perché già prima appena c'era un messaggio di qualcuno che richiedeva aiuto veniva comunicato e viene comunicato immediatamente a tutte le autorità come avete visto anche per quanto riguarda l'ultimo naufragio in SAR Libica è stato immediatamente comunicato ai libici, i libici hanno detto non abbiamo motovedette, come non avete motovedette? ve le abbiamo date noi? mi viene da dire delle parolacce perché vi abbiamo dato 100 milioni più le motovedette e non ci sono motovedette pronte ragazzi qua ci prendono proprio il culo voglio dire, adesso devo anche dirlo e poi a me ha scioccato veramente l'ultima comunicazione non so se l'avete seguite queste comunicazioni che ci sono state tra Sea-Watch, l'aero di Sea-Watch, la base di Sea-Watch e il centro di ricerca di Roma e quello di Bengasi dove all'ultimo uno dei nostri del centro di ricerca di Roma ha detto sì sì ok ciao ciao ha chiuso la chiamata così punto, fine sì sì ok ciao ciao questo ha detto io veramente sono rimasto se c'è una barcha in pericolo oltretutto le zone SAR sono delle zone convenzionali dove gli stati SAR, search and rescue sempre quindi ricerca e soccorso sono delle zone che sono convenzionalmente state create dove dovrebbero intervenire gli stati che sono appunto stati come dire hanno questa zona di competenza quindi SAR libica, SAR maltese, SAR italiana Malta non interviene mai da nessuna parte i libici quando intervengono intervengono per riportare indietro i migranti e noi ne abbiamo avuto contezza proprio durante un soccorso che abbiamo fatto se andate sul nostro sito rescue.it c'è il filmato in cui noi riceviamo il messaggio di richiesta di soccorso la nostra nave fa 8-9 nodi quando proprio in discesa loro hanno le nostre motovedette che vanno 22-24 nodi quindi arrivano prima loro noi arriviamo mentre loro sono già lì e ci dicono andate via assolutamente ci pensiamo noi noi non è che abbiamo regole di ingaggio militari questi hanno i fucili hanno la mitragliatrice sulla motovedetta quindi dobbiamo necessariamente stare lì e aspettare loro li riportano indietro semplicemente perché li riportano indietro perché in accordo con i trafficanti poi queste persone ripagheranno un'altra volta l'attraversata quindi la pagheranno due volte tre volte dopo aver pagato l'attraversata del deserto dopo essere stati imprigionati stuprati picchiati torturati nei lager libici come sempre diamo un nome alle cose perché le cose stanno così cioè questo è stanno così sì peraltro la nostra Costituzione l'articolo 10 spiega che noi dovremmo dare asilo alle persone ma non per una ragione bislacca perché quando hanno scritto la Costituzione lo dico a voi che già lo sapete ovviamente non c'erano i migranti che venivano nel mar Mediterraneo i migranti e gli espadriati per ragioni politiche o di discriminazione razziale eravamo noi e quindi i Costituenti si preoccuparono di scrivere una norma universale con un dibattito bellissimo molto acceso in cui un senatore un perdono un rappresentante socialista della Costituente disse fatelo largo perché se la scrivete troppo stretta la norma l'anno scorso a me mi ammazzavano non ai migranti che vengono dal centrale d'Africa o dalle zone dell'Himalaya proprio noi è per questo che è stata scritta non è un caso che Salvini che è un uomo di grande intelligenza ha colto questo e l'aveva già attaccato quando aveva fatto il ministro all'interno del governo Conte ricordate Conte era cattivo poi è diventato buono però prima era cattivissimo e fece quella cosa con i decreti di sicurezza lui e Salvini col cartello brutto e uno dei problemi di Salvini allora era proprio quello di dire che l'articolo 10 in generale le norme di soccorso che non sono solo quelle che tu insomma che si riferiscono o che hanno a che fare con l'articolo 54 del codice penale ma che sono le norme di soccorso in generale del diritto del mare in generale tutte le convenzioni che guarda caso furono scritte anche loro dopo la fine della seconda guerra mondiale cioè tutta quella impalcatura di convenzioni internazionali e il loro rafforzamento furono fatti dopo la seconda guerra mondiale perché ti posso correggere vai certo che direi ce n'è una del 1910 sì però aspetta perché furono rafforzate come stavo dicendo dopo la seconda guerra mondiale cioè ci si chiese come potevano coprire di più visto quello che era successo e peraltro la seconda guerra mondiale la fine della seconda guerra mondiale finisce con un grandissimo flusso migratorio all'interno dell'Europa e non solo come ricorderete cioè c'era l'esigenza di ricostruire come dire un profilo di diritto sovranazionale un po' contro i nazionalismi prima di tutto ma poi per dare alle persone la dignità al di là della loro provenienza che è un po' la questione degli anni 45 47 48 insomma che sono le cose di cui stiamo parlando che sono le cose di cui stiamo parlando che sono le cose che sono le cose che sono le cose o che stanno parlando che sono le cose